Niente segno della pace e acqua santiere vuote, anche la Chiesa corre così ai ripari di fronte al fenomeno del coronavirus e lo fa seguendo le indicazioni partite dalla Conferenza Episcopale Toscana, alle quali ovviamente si atterrà anche la Diocesi di Arezzo. Dunque è stato deciso che nelle Chiese ci si attenga a questi comportamenti, tenere vuote le acqua santiere, omettere il gesto dello scambio della pace nelle celebrazioni liturgiche, distribuire la comunione esclusivamente sulla mano ed infine prendere precauzioni durante le confessioni auricolari e in contesti di contatti personali. I sacerdoti sono stati inoltre invitati a spiegare fedeli che si tratta di doverose misure precauzionali da attuare per il bene della società. Non si ritiene inoltre al momento di dover prendere altri provvedimenti che possano limitare la vita pastorale, raccomandando di seguire al riguardo quanto disposto dalle autorità civili per la vita sociale in genere. Queste disposizioni saranno valide sino a nuove comunicazioni. Nuove misure di prevenzione nelle ultime ore sono scattate anche in Tribunale ad Arezzo, dove è saltata l'udienza del processo legata all'operazione Duomo Vecchio, che aveva portato lo scorso maggio a numerosi arresti per spaccio all'interno del Parco del Colle del Pionta. Alcuni dei 14 imputati al processo sono arrivati alla vela del Tribunale Aretino, ma per tre di loro, attesi dal carcere di Perugia, dove sono attualmente reclusi, il trasferimento non è stato possibile. Da ieri, infatti, è entrata in vigore la misura che prevede lo stop alle traduzioni dei detenuti fino a nuovo ordine. Si tratta di una circolare emanata dal Ministero di Giustizia a seguito della diffusione del coronavirus, un caso dunque di legittimo impedimento alla presenza al processo. Il dibattimento è stato così stoppato. La Presidente del Collegio dei Giudici, Giulia Soldini, ha annunciato il rinvio al prossimo 10 marzo.